Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio bellissimo video Oggi siamo qui ragazzi per commentare tra virgolette commentare come sta procedendo questa trattativa con David Silva David Silva, la Lazio è molto interessato a David Silva quindi è vicinissimo alla Lazio e anche il padre ha detto dai vai alla Lazio e una cosa ragazzi che non c'entra niente con David Silva se non lo sapete Messi si è comprato anche il padre si è comprato la casa a Milano quindi che compi a fare la casa a Milano se dopo non vai là a Milano quindi quasi di sicuro ci andrà all'Inter comunque sto registrando con il mio bastone se mi vedete che allungo la mano vedete così quindi cominciamo a parlare di questo acquisto che vorrebbe fare la Lazio allora 40 milioni 50 milioni secondo me non lo so ho buttato così a caso ho buttato a caso quindi non si sa però è vicinissimissimo quindi quasi di sicuro ci andrà qui se volete un po' più fare questo video se non l'avete capito tanto bene perché se non capite niente da me andate a vedere il video di Neschio N-S-K-H-I-O due giorni fa l'ha fatto tipo e molto forte ragazzi un centrocampista quando con mio fratello gioca poco a FIFA non era una scheggia di più era proprio fortissimo fortissimo e velocissimo poi ragazzi vi dico una cosa visto che non posso fare più i videogiochi non posso fare non faccio più i videogiochi non faccio più i videogiochi vi dico come faccio a fare tutte quelle schermate allora basta che scaricate Tombail Noar Youtube e dopo dovete tipo scaricare una foto di David Silva e poi puoi metterci delle scritte ci puoi mettere quello che vuoi ci puoi mettere anche sopra REC ci puoi mettere live tutto quello che vuoi molto bella questa app l'ho scoperta da circa una settimana quindi ora farò sempre le miniature e questa se non lo sapete sono delle miniature quindi l'ho fatta molto bella l'immagine di David Silva spero molto bella comunque ragazzi scrivete qua sotto i commenti se questo tipo di video vi piaccia dove faccio solo calcio se avevo tante idee può darsi pure che facevo videogiochi visto che non ho idee più tante idee perché ho fatto tanti video ora farò solo così quindi continuiamo un po' allora ha tipo quasi 30 anni non lo so poi gioco con Magister City non si sa se tra un po' Let's o ci giocherà ancora poi non ha i capelli tipo è del portocallo sto di portocallese come cavolo si dice quelli lì che sono del portocallo vabbè scrivete qua sotto i commenti è di portocallo è di portocallo come ho detto quasi 30 anni prima aveva capelli non so da quando precisamente credo che con Magister City ci gioca da un bel po' credo dal 2014 ci giocherà prima non so che giocava però se la Lazio lo comprerà sarà un bel colpo e sarò contenta che è per loro però basta che non segna contro la Roma sempre comunque ragazzi pallotta è andato via lo saprete tutto il presidente è andato via e ora abbiamo Frednick un altro americano quindi sto parlando un po' di tutto su questo video qui quindi se questo ho parlato poco di Davies come ho detto farà un bel po' se andrà la Lazio poi ragazzi Messi quest'anno di sicuro non ci andrà però il prossimo anno quasi di sicuro perché se ti compri la casa a Milano è inutile che sprechi i soldi di sicuro si capisce che va l'Inter ha deciso perché se no non comprava per niente la casa che compri la casa e la lasci stare non ha senso ti puoi comprare anche un'altra casa quindi ragazzi se questo commento di questo giocatore molto molto forte Davies si è piaciuto commento come sempre come avevo detto scaricate l'app youtube noar non editor video editor foto quindi se non avete capito come si chiama ve lo scrivo nei commenti però sono sempre disattivati quindi ragazzi noi ci becchiamo ad un prossimo video ciao ragazzi